Musica Urne aperte per il turno di ballottaggio. A Bari la sfida è tra Vito Leccese centrosinistra e Fabio Romito centrodestra. A Lecce tra la Polibortone centrodestra e Carlo Salvemini centrosinistra. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede. E' ancora tutto da chiarire la dinamica dell'asperatore che sabato mattina ha portato al ferimento di due uomini nei pressi di uno stabilimento balneare a nord di Brindisi. Tour di Vasco Rossi a Bari cresce l'attesa fuori dallo stadio San Nicola per il concerto in programma il prossimo 25 giugno. Buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di Antenna Sud. Ballottaggi l'affluenza nei 101 comuni in Italia chiamati alle urne alle 12, poco sopra il 12% in calo rispetto al primo turno. A Bari l'affluenza è stata del 10,27%. A Lecce invece del 18,55%. Si vota oggi fino alle 23. Domani lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Poi inizieranno lo spoglio delle schede. Cittadini al voto al Bari per il turno di ballottaggio tra Vito Leccese, centro-sinistra e Fabio Romito per quanto riguarda il centro-destra. Siamo collegati in diretta con la nostra Antonella Fazio. Sì Gianni, noi siamo alla Marco Polo del quartiere Progio Franco di Bari. Qui ci sono tre delle 345 sezioni del capologo pugliese dal quale domani pomeriggio si saprà uscirà il nome del primo cittadino. Lo scontro è tutto tra Fabio Romito, candidato unico del centro-destra e dall'altra parte Vito Leccese, candidato del centro-sinistra sia del PD e dei Verdi che in questi ultimi 15 giorni ha avuto anche l'endorsement di Vendogliani e Movimento 5 Stelle con Michele Laforgia. La sfida si è aperta stamattina alle 7, chiuderanno i seggi questo pomeriggio alle 23 per poi riaprirsi domani mattina alle 7 fino alle 15. Proprio qui alla Marco Polo un paio d'ore fa ha votato il candidato del centro-destra Fabio Romito e invece il candidato del centro-sinistra Vito Leccese ha votato alla Don D'Alessio di Carbonara e noi ricostruiamo tutta la situazione degli 8 comuni pugliesi coinvolti al vuoto nel servizio dopodiché la linea può tornare a te. Sono 8 i comuni pugliesi che fino a lunedì alle 15 si giocano la partita del primo cittadino dalle 7 urne aperte per decretare i nuovi sindaci di Bari e Lecce oltre a Putignano e Santeramo in Colle nella città metropolitana Copertino in Salento, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Severo nel Foggiano. Nel capologo di regione nella mattinata di domenica hanno votato entrambi i candidati Vito Leccese nel seggio 177 della Don D'Alessio di Carbonara Fabio Romito in quello della Marco Polo di Poggio Franco i due arrivano ai ballottaggi con alle spalle un primo turno in cui il candidato del centro-sinistra Leccese ha dalla sua il 48,02% delle preferenze contro il 29,12% dell'esponente del centro-destra Unito. Alle 7 liste che 15 giorni fa hanno sostenuto Leccese tra queste PD e Berdi si aggiungerebbero le 6 di Michele Laforgia tra cui Pentestellati e Bendoliani Romito invece ha potuto contare sul sostegno di 9 liste tra cui Fratelli d'Italia, Forza Italia, Odicino e Moderati assente il simbolo della Lega nonostante Romito sia un iscritto e consigliere regionale in quota carroccio. Nel Barese a contendersi la fascia tricolore di Putignano ci saranno il sindaco uscente Luciana Laera con il 32,54% delle preferenze e Michele Vinella fermo al primo turno al 39,44% anche a Santeramo e il sindaco uscente Vincenzo Casone ad andare al ballottaggio contro Nunzio Zeverino 32,47% di preferenze per il primo 26,55% dei voti per il secondo Da Bari a Lecce, la Lecce la sfida è tra la Poli Bortone per il centro-destra e Carlo Salvemini per il centro-sinistra E scattata l'ora X per quanto concerne il ballottaggio che consegnerà ai cittadini di Lecce il loro nuovo sindaco I tempi supplementari delle elezioni comunali nel capoluogo salentino come nel resto d'Italia si tengono domenica 23 con seggi aperti dalle 7 alle 11 di sera e lunedì 24 con i seggi aperti dalle 7 alle 15 Lo spoglio inizierà immediatamente e sarà quasi certamente un testa a testa sino all'ultima scheda tra i due sfidanti alla carica di primo cittadino leccese Entrambi hanno, ovviamente, esercitato il loro diritto di voto presentandosi in simultanea presso i rispettivi seggi La senatrice Adriana Polibortone nel seggio numero 55 presso il liceo Virgilio La Polibortone è apparsa serena e sorridente abbracciando e stringendo mani a quanti le andavano incontro a salutarla prima di entrare nel seggio successivamente nella cabina elettorale e, infine, imbucando la scheda nell'apposito scatolone Sereno anche il sindaco uscente Carlo Salvemini che si è presentato al Calasso in Total Black Sorrisi e saluti affettuosi anche per lui che ha dovuto attendere qualche minuto fuori dal seggio numero 8 prima di entrare nella cabina elettorale ed esprimere la sua preferenza Oltre due candidati sindaci, sino alle 12 di domenica è andato a votare circa il 17,5% degli aventi diritto ben 13 punti in meno rispetto al precedente ballottaggio che però si consumava in una sola giornata Ed ora ci trasferiamo a Brindisi il rimpasto per quanto riguarda la giunta e il nuovo esecutivo il sindaco Martion chiede i nomi ai partiti Avere una rosa di nomi da valutare per il rimpasto della giunta comunale a Brindisi entro i primi giorni della prossima settimana nomi che dovranno rispondere a precise caratteristiche in primis dovranno essere disposti a fare squadra e dialogare con il consiglio comunale Così il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna nell'incontro con i segretari provinciali dei partiti e capigruppo di maggioranza riunione che si è svolta nella sede di Forza Italia nella mattinata di sabato 22 giugno All'incontro hanno partecipato Vittorio Zizza per la Lega Laura De Mola per Forza Italia Luigi Caroli per Fratelli d'Italia Claudio Niccoli per i moderati e Vito e Birgitta per i repubblicani Il primo cittadino ha subito evidenziato che non si può ignorare la richiesta della revoca delle deleghe proprio perché è proveniente da 19 consiglieri su 21 Inoltre ha aggiunto che l'assetto dell'esecutivo resterà invariato Insomma la forza dei partiti all'interno della giunta resterà la medesima Le parti dovrebbero riaggiornarsi dopo la valutazione del sindaco sui nomi proposti dei partiti e il giorno stabilito potrebbe essere mercoledì 26 giugno Se i nomi che arriveranno sul tavolo del sindaco Marchionna non risponderanno alle aspettative e alle richieste fatte ai partiti dal primo cittadino il sindaco potrebbe anche decidere di dimettersi Ed ora la cronaca è ancora tutta da chiarire la dinamica della sparatoria avvenuta sul litorale a nord di Brindisi sabato Due uomini feriti a colpi di pistola all'ingresso di uno stabilimento balneare è una dinamica ancora tutta da ricostruire La sparatoria avvenuta sabato mattina davanti al Lido Risorgimento Una delle spiagge storiche lungo la litoranea a nord di Brindisi presenta ancora diversi punti oscuri Il dato oggettivo è che al pronto soccorso sono arrivati a breve distanza l'uno dall'altro un uomo di 61 anni e uno di 43 entrambi feriti alla coscia Il primo è stato sottoposto a intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile e ricoverato nel reparto di ortopedia del Perrino Il secondo con una ferita quasi identica ma senza ritenzione della pallottola è stato dimesso con una prognosi di un mese Non è chiaro se i due si siano feriti a vicenda o siano invece vittima di una terza persona che poi è fuggita Pistole non ne sarebbero state trovate e sull'asfalto pare solo qualche macchia di sangue davanti all'ingresso dello stabilimento balneare La polizia ha acquisito le immagini registrate dalla telecamera del Lido che punta proprio verso l'ingresso si vocifera di una lite avvenuta venerdì sera e che sarebbe alla base della vendetta colpi d'arma da fuoco probabile che la procura alla luce delle indagini possa richiedere provvedimenti restrittivi Cronaca adora un servizio su una tentata estorsione ai danni dell'ex fidanzata Guai giudiziari per Andrea Di Gennaro il figlio di Antonio Di Gennaro ex calciatore del Bari opinionista sportivo commentatore tecnico rai della nazionale italiana impegnata agli europei di calcio Andrea Di Gennaro 34 anni barese è finito sotto processo a Lecce per tentata estorsione l'uomo avrebbe minacciato la ex fidanzata anche lei di Bari di diffondere alcuni video che la riprendevano durante un rapporto sessuale consumato tra di loro i fatti risalgono a luglio 2017 a sporgere denuncia alla giovane donna la minaccia di diffondere il video se non fosse stata buona sarebbe avvenuta mesi dopo in estate nel corso di una lite tra Andrea Di Gennaro e il fratello della ex per un orologio Rolex di proprietà della donna che a suo dire sarebbe sparito in maniera poco chiara dall'abitazione del Di Gennaro la sentenza è prevista per il prossimo dicembre davanti ai giudici del Tribunale di Lecce ed ora un nuovo capitolo per quanto riguarda la lunga telenovela del deposito Edison di Brindisi L'ASI medita di presentare ricorso dopo la sentenza che ha dato ragione all'autorità di sistema portuale sulla distanza tra il deposito GNL che dovrebbe nascere nel porto esterno di Brindisi e la ferrovia che passa da quelle parti una sentenza che tuttavia potrebbe rappresentare paradossalmente un punto a favore di chi si oppone al progetto il capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberto Fusco fa notare come i giudici abbiano evidenziato nella stessa sentenza che non si tratti di un mero deposito e dunque dovrebbe essere sottoposto a via Beh, questa sentenza è importantissima perché certifica il Tarlazio per affermare la propria competenza dice che il progetto Edison non è un mero deposito di gas ma è un deposito di gas che in quanto collegato alla rete nazionale SNAM è sostanzialmente un gasdotto una infrastruttura necessaria per l'infrastrutturazione e il trasporto del gas e quindi è di competenza nazionale ma se detto questo la normativa prevede per queste infrastrutture per questi impianti assolutamente l'assoggettamento la valutazione di impianti di impatto obbligatorio alla via di impatto ambientale Quindi adesso la palla passa alla procura? Beh, per forza perché risulta un'omessa valutazione di impatto ambientale nel momento in cui ci sono delle violazioni di legge e tra l'altro ricordiamoci questo era uno dei motivi denunciati dal comune anche al Tar ma ritirando il ricorso il Tar non si è mai potuto esprimere non resta che far esprimere la procura della Repubblica Cambiamo argomento violento schianto all'alba di oggi nella BAT l'incidente si è verificato tra un'auto ed un trattore pare che entrambi i mezzi stessero viaggiando nella stessa direzione Ancora un incidente stradale nel fine settimana della BAT uno schianto tra una vettura ed un trattore ha provocato cinque feriti lungo la strada statale 16 bis in territorio di San Ferdinando con i due mezzi che stavano viaggiando verso Foggia l'incidente in direzione nord è avvenuto poco dopo le 5 all'alba della domenica nei pressi dell'uscita a San Ferdinando Sud coinvolta una Mercedes classe A con a bordo quattro giovani donne e un trattore con a bordo un uomo che ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato presso l'ospedale Tatarella di Cerignola delle quattro occupanti della vettura la donna che si trovava alla guida è stata trasportata nell'isoccorso presso gli ospedali riuniti di Foggia e sarebbe in condizioni serie due ambulanze invece sono giunte da Trinitapoli e hanno prestato soccorso alle altre persone coinvolte trasferite tra gli ospedali di Andria Barletta e Cerignola sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia di stato di Barletta con gli agenti che hanno immediatamente effettuato i rilievi del caso necessario anche l'intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi incidentati la circolazione ha subito rallentamenti traffico ripristinato nelle ore successive al sinistro ancora da accertare sia la dinamica sia le cause dell'impatto ma stando alle prime ricostruzioni l'auto non avrebbe visto in tempo il mezzo agricolo e lo schianto sarebbe stato inevitabile e momenti di tensione nella borgata di Talzano a Taranto a causa di un grosso incendio divampato nel giardino di una casa sono stati vissuti momenti di tensione nella borgata di Talzano a Taranto a causa di un grosso incendio divampato nel giardino di una casa l'episodio è venuto intorno alle 11.30 di domenica le fiamme si sono sviluppate in un'abitazione in via Ruini al Civico 5 al momento del ruogo c'erano tre persone tutte di origini marocchine i vigili del fuoco di Taranto sono intervenuti tempestivamente dopo le segnalazioni giunte al 115 sarà necessario appurare le cause che hanno fatto sviluppare l'incendio le fiamme si sono in breve tempo propagate all'interno di un container sistemato sul terreno adiacente al fabbricato per qualche minuto si è temuto il peggio a causa della presenza di alcune tanniche di benzina custodite nel container utilizzato per conservare materiale di varia natura sul posto si sono recati anche i sanitari del 118 con due ambulanze ma le tre persone che si trovavano all'interno della villetta non hanno riportato gravi conseguenze pare solo lievi ustioni pertanto le loro condizioni non hanno reso necessario ricovere in ospedale sul posto anche una pattuglia della polizia di stato che in collaborazione con i vigili del fuoco dovranno appurare quanto accaduto in particolare si dovrà comprendere quali sono state le cause che hanno provocato l'incendio è stata una domenica movimentata per la zona alla periferia sud del capologo ionico in apprezzione soprattutto ai cittadini residenti nelle abitazioni vicine a quella dove si è sviluppato in rogo l'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco al termine di un lungo e difficile intervento i pompieri di Taranto sono giunti sul posto con tre mezzi e gravi disagi per la circolazione a Taranto a causa della chiusura di un tratto della statale 7 per la ricostruzione di un cavalcavia i lavori dovrebbero chiudersi il prossimo 2 luglio protesta del consigliere regionale Perrini le immagini sono di Francesco Monfuso è passata meno di una settimana dall'inizio dei lavori di chiusura di un tratto della statale 7 Appia per la demolizione e la ricostruzione di un cavalcavia buffoluto ma stop e deviazioni sono già tra gli incubi più ricorrenti degli automobilisti tarantini i lavori sono cominciati giovedì 18 secondo l'ANAS che li ha programmati dovrebbero concludersi il 2 luglio nella frattempo per chi viaggia da Tanato verso Brindisi c'è la chiusura totale dello svincolo per Paolo Sesso Circumar Piccolo e la necessità di andare avanti fino allo svincolo per Martina attraversare tutto il quartiere Paolo Sesso per poi ricongiungersi alla provinciale 77 per chi viene da Brindisi o da Grottali allo svincolo obbligatorio è Paolo Sesso Circumar Piccolo per attraversare il quartiere andare sulla 172 con la direzione Taranto risultato file interminabili sotto il soleone traffico bloccato per chilometri camion ovunque propositi di santità per chi guida il perfetto inizio per un'estate di fuoco il tempo di allungamento del percorso di 15 minuti previsto da ANAS esiste solo sulla carta cavarsela in mezz'ora è già un miracolo ovviamente la mente le degli automobilisti tra cui si è trovato anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini che ha subito tirato in ballo l'assessore regionale dei trasporti Deborah Ciliento e l'ANAS secondo Perrini i lavori avrebbero potuto effettuarsi di notte riducendo al minimo i disagi per i cittadini se ne parlerà presto alla regione in Commissione Trasporti nel frattempo continueremo a monitorare la situazione la scadenza del 2 luglio non può essere procrastinata e alcuni agricoltori aderenti a Coldiretti Puglia domani incateneranno i trattori davanti ai caccelli dei pozzi perché sostengono l'acqua e viene erogata a Singhiozzo l'appuntamento è per le 9.30 davanti ai cancelli di Pozzo della Parata Bitonto stessa situazione critica viene segnalata a Paolo Del Colle sempre nelle Barese e cambiamo ancora argomento fiori d'arancio il figlio di Bruno Vespa Alessandro si è sposato ad Oria a celebrare le nozze nella cattedrale il Vescovo circa 300 persone tra invitati e curiosi del posto hanno riempito la Basilica Cattedrale di Oria chiesa nella quale nel pomeriggio di sabato 22 giugno svariati esponenti nel mondo della politica del giornalismo e dello spettacolo in generale hanno assistito alle nozze di Alessandro Vespa primogenito del noto Bruno e della magistrata Augusta Iannini un sabato pomeriggio se non altro insolito per la cittadina di Oria tra l'incanto degli ospiti rimasti ammaliati dal centro storico del borgo federiciano e la curiosità degli oritani giunti nei pressi del palazzo diocesano anche soltanto per strappare un saluto o una foto con gli ospiti d'onore di giornata un'attenzione comunque educata e mai sopra le righe mai sfociata in impertinenza anche grazie al lavoro del servizio di sicurezza previsto per l'occasione a beneficio di ordine e comodità dagli sposi è stato anche messo a disposizione degli invitati un servizio di trasporto utile non soltanto per non perdersi nelle viuzze del suggestivo centro storico di Oria ma anche per evitare una notevole salita in un affoso pomeriggio di ormai fine giugno il matrimonio è stato celebrato dal vescovo Vincenzo Pisanello in persona mentre la festa è poi proseguita a pochi chilometri di distanza presso la tenuta di famiglia Masseria Lireni neanche a dirlo svariati i personaggi più che noti da Angelino Alfano a Pierferdinando Casini passando per Maria Elena Boschi e non solo un evento illustre in cui a vincere è stata l'ospitalità e chissà che qualcuno di questi ospiti illustri non decida di tornarci ad Oria in futuro così da viverla nei panni di turista e conoscerla in un contesto di maggior tranquillità e cambiamo ancora argomento parliamo di l'intitolazione di una piazza a Lizzanello nel Salento è stato il parroco storico di Lizzanello in provincia di Lecce per oltre 50 anni facendosi amare e apprezzare per una parola di conforto un sorriso e a volte anche per un aiuto economico a che aveva bisogno o affrontava momenti difficili prete di altri tempi ha lasciato un segno indelebile divenendo un pilastro della comunità una comunità che per generazioni e generazioni si è stretta attorno a lui artefice del cambiamento mente braccio della costruzione dell'imponente chiesa matrice ai tempi dell'arcivescovo Francesco Minerva e Pietra Miliare per la raccolta di offerte del nuovo seminario diocesano fortemente voluto all'epoca da Monsignor Cosmo Francesco Ruppi con lui Lizzanello ha vissuto una pagina di fede con gioia ed entusiasmo con la chiesa gremita dove risuonavano le sue indimenticabili omelie a vent'anni dalla sua scomparsa l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Costantino Giovannico l'ha voluto ricordare intitolandogli la villa comunale pollo di aggregazione di grandi e piccini d'estate e quinta teatrale a cielo aperto di eventi durante l'anno alla cerimonia di intitolazione ha partecipato anche l'arcivescovo metropolita Monsignor Michele Seccia che ha ricordato il valore umano di Don Alfonso Cannoletta stringendosi intorno ai suoi parenti e alla gente di Lizzanello che con commazione hanno partecipato all'evento con la consapevolezza che Don Alfonso è rimasto e rimarrà sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto Una figura straordinaria sia come sacerdote che come persona ha fatto la storia di Lizzanello è un omaggio doveroso che abbiamo voluto fare intitolando appunto questa villa comunale questo giardino a ridosso poi della chiesa che lui ha voluto realizzare con tanti sacrifici quindi noi lo ricordiamo volentieri per quello che ha fatto per la comunità di Lizzanello Ed ora una segnalazione che ci giunge direttamente dai nostri telespettatori un degrado l'abbandono di rifiuti segnalato a Taranto Dalla sera prima al mattino dopo non è cambiato nulla acquendo il malcontento di un gruppo di abitanti di via generale Messina a Taranto che ci hanno segnalato un'incresciosa situazione riguardante rifiuti ingombranti e pericolosi che giacciono in strada da giorni vecchie porte con i vetri rotti e diffusi in mille pezzi sull'asfalto persiane smontate e abbandonate un ventilatore vecchio e smontato avvolgibili assi di legno appuntite a pochi metri dai cassonetti della Giardinetto Santa Lucia ovviamente il primo colpevole di un simile scempio è il cittadino che ha scambiato la strada pubblica per una discarica senza preoccuparsi minimamente di chiamare l'azienda partecipata di igiene urbana per la rimozione di detriti ingombranti il confronto tra le immagini però aggiunge un aspetto lo svuotamento dei cassonetti negli ultimi giorni è stato regolarmente effettuato sarebbe bastata una segnalazione degli operatori a lavoro all'ufficio che si occupa degli ingombranti per accelerare i tempi dai cittadini parte la segnalazione al presidente di Chimambiente Giampiero Mancarelli affinché una situazione di pubblico decoro possa essere ripristinata in tempi rapidi e come ogni estate tonna di grande attualità il problema riguardante l'abbandono dei cani siamo andati a Trani all'interno di un rifugio per vedere la situazione con i volontari della Lega Nazionale per quanto riguarda la difesa dei cani sono circa 90 i cani che hanno trovato una casa momentanea nel canile sanitario e presso il rifugio San Francesco di Trani come ogni giorno al lavoro ci sono i volontari della Lega del Cane impegnati nella pulizia delle cucce nel dar da mangiare agli amici a quattro zampe e nel fargli fare una sgambata all'aperto ma non solo per alcuni di loro e anche per dei nuovi ospiti arriva il momento del bagnetto che in questi giorni segnati da un'intensa ondata di calore si rivela di particolare importanza il periodo del caldo è un periodo pesante per i cani quello che riusciamo a fare è poter mettere degli ombreggianti bagnare i cani bagnare i box farli uscire insomma per più tempo e delle piscinette qualcuno gradisce qualcun altro no grande è l'impegno dei tanti volontari che donano il proprio tempo libero agli amici a quattro zampe la cui attività è in continua crescita per far fronte al fenomeno dell'abbandono che con l'arrivo delle vacanze torna mariamente sono aumentati la gente prende con molta superficialità i cani e poi si rende conto che è un impegno e quindi poco dopo chiede di poterli dar via e tra l'altro se ne trovano anche tanti per strada l'estate ormai è tutto l'anno per quanto riguarda gli abbandoni ormai non c'è più una stagione effettivamente per questa piaga invitiamo sempre le persone prima di riflettere ovviamente quando devono prendere un cane piuttosto che andarla a comprare è una cosa ormai scontata da dire ma è quello venite in canile e aumentano purtroppo anche le richieste di aiuto per quanto riguarda le carites siamo andati a Trani il servizio le casse della carità diventano sempre di più un punto di riferimento per le tante famiglie in difficoltà all'interno tanti gli operatori e volontari della carita sparrocchiale impegnati nell'offrire sostegno luoghi questi di accoglienza aperti e più bisognosi in cui è stato realizzato un vero e proprio emporio solidale dove l'attenzione verso i più piccoli è testimoniata dei tanti vestiti per bambini e giocattoli le attività sono importantissime perché esprimono concretamente quello che le comunità parrocchiali vivono nei confronti di ogni fratello ogni sorella soprattutto i più fragili i più i più deboli questa tra l'altro è l'attenzione che ci viene richiesta proprio da Caritas italiana a partire dall'ultimo report che focalizza in modo particolare l'attenzione su alcune forme di povertà le famiglie con i figli i bambini da 0 a 3 anni i senza dimora e gli anziani in aumento le giovani famiglie che chiedono un sostegno alle Caritas parrocchiali come ci ha raccontato il responsabile della struttura italiani stanno aumentando anche i giovani le giovani famiglie italiane che non ce la fanno ed ora parliamo di incontri tra religioni a Patù nel Salento i giovani dovrebbero aiutare in questo non dovrebbero parlare di altro perché le questioni teologiche non porterebbero a nessuno devono lavorare sul pratico quindi l'accoglienza i migranti chi è in situazioni di disagio chi esce da guerre l'impegno per la pace elemento vitale dell'identità del Salento terra della convivialità delle differenze secondo la definizione di Don Tonino Bello questo è il filo conduttore della serata di mercoledì a Patù dove in occasione della giornata mondiale del rifugiato Don Beniamino Nuzio in rappresentanza della confessione cattolica Saifeddin Marufi Imam di Lecce Furio Biagini per la confessione ebraica sono stati protagonisti di un dialogo sulla pace filo rosso che lega le tre religioni e che è un imperativo soprattutto in una terra di accoglienza come il Salento la giornata del rifugiato che ci ricorda che qualche parte c'è sempre una persona che scappa da un male da una guerra e cerca rifugio presso altri nella maggior parte dei casi queste terre sono popolate di persone che portano culture e fedi che possono essere diverse ma che hanno in comune lo spirito dell'accoglienza un versetto coranico dice Dio parla ai uomini o gente vi abbiamo creato da maschio o femmina e reso popoli e tribù affinché vi conosciate a vicenda è anche un comando che Gesù ci ha lasciato no? amatevi gli uni gli altri amate il diverso il nemico lo straniero il profugo l'immigrato quindi se vogliamo dire padre nostro visto che siamo tutti figli di un unico Dio dobbiamo amarci dobbiamo accoglierci rispettarci includerci anche nelle situazioni sociali economiche nel corso della serata inoltre è stato presentato il calendario comparato testimonianza di un'armonia sociale oltre che religiosa ed è stato un successo la festa organizzata dall'Unitalsi e dall'Osmaerm alla terza ci diventiamo qua che siamo in tutti i colori della pace è una bella cosa uniti tutti insieme la voce emozionata dei protagonisti è la più grande soddisfazione è stato un autentico successo la festa d'estate organizzata alla terza dall'Unitalsi di Castellaneta in collaborazione con Osmaerm nel giardino dell'importante centro di riabilitazione pugliese è stato riaffermato un concetto dopo il verbo amare il verbo aiutare è il più bello del mondo è una realtà molto vicina alla nostra una realtà che si prende cura con amore dei disabili delle fragilità dei disabili molto gravi come quelli che sono ospitati qui ad Osmaerm è stato un momento molto importante molto emozionante per noi per tutti i nostri operatori speriamo insomma che questo sia il segnale di una rinascita si è trattato infatti di una grande serata di beneficenza per le persone fragili a cui è stato possibile partecipare con un'offerta simbolica 10 euro tutto il ricavato per il pellegrinaggio a Lourdes a cui prenderanno parte tante persone con disabilità e difficoltà economiche che partiranno con il treno bianco dedicato il viaggio partirà il primo agosto per concludersi il 7 è una straordinaria esperienza qui allo Osmaerm che è un legame ormai che si è creato da qualche anno e lo viviamo qui in questo ambiente particolare con i nostri amici che sono in difficoltà la nostra è una mission di vicinanza di prossimità alle persone che hanno bisogno che sono in difficoltà e quindi questo ci sembra il luogo ideale Maria ci chiama e noi siamo qui per raggiungere quella grotta un matrimonio naturale tra due realtà che si occupano di fragilità di fare bene per le persone che hanno bisogno se c'è tutta questa gente qui stasera un motivo c'è per i ragazzi portiamo gioia a questi ragazzi alla terza si sono ritrovate tantissime delegazioni arrivate da ogni angolo della Puglia con i vertici dell'Unione di Osmaerm ma soprattutto la bandiera della pace con un coloratissimo corteo animato dai bambini e una fiaccola speciale e poi la musica dell'orchestra mancina il tour di Vasco Rossi a Bari cresce l'attesa fuori dallo stadio San Nicola per il concerto in programma il prossimo 25 giugno Mario Mario verrà con noi oggi sta al mare però dorme con noi fa il concerto con noi è vero Mario appena arrivata da dove? da Voghera a Pavia stadio San Nicola le tende che vedete qui accampate non sono per una partita di calcio bensì per il concerto di Vasco Rossi che martedì animerà proprio l'astronave di Renzo Piano molti di loro dei fan del Blasco sono qui già da qualche giorno e in attesa del mega concerto che conquisterà la Puglia ma non solo loro sono già pronti a intonare le canzoni del comandante senza rimpianto sei venuto da Milano qui a Bari per vedere Vasco Rossi esatto non sei riuscito a prenderlo a San Si sì anche a San Si e dopo di che quindi ti segui tutta la turnetta non solo da Bari non solo dalla Puglia per assistere a uno degli eventi rock di quest'estate 20-24 sono arrivati anche dal nord dove la pioggia battente ha caratterizzato le prime tappe del Vasco Live quattro i concerti al San Nicola del comandante tra il 25 e il 30 giugno e fino a martedì è quasi certo che le tende sotto il sole del capoluogo continueranno a moltiplicarsi qualcuno dorme un po' più comodo il materasso abbiamo la carta igienica i gentili signori ce l'hanno lasciata io sono stato il primo sto qui dal 15 perché Vasco Rossi perché Vasco Rossi è Vasco Rossi la sua canzone preferita? che domanda è rotonda del lungomare a Taranto gremito per il primo concerto del Medimix 2024 una serata a 38 gradi il consueto spettacolo delle migliaia di persone sulla rotonda del lungomare è arrivato anche il momento del main stage dei concerti principali per il Medimix Tarantino edizione 2024 le note magiche oniriche le atmosfere rarefatte degli smile hanno rapito l'attenzione dei circa 6.000 spettatori presenti arrivati da tutta Italia e dall'estero per assistere alla performance di Tom York frontman dei radiohead degli stessi smile accompagnato da Thomas Kinn e Regioni Greenwood al fieri dello scenario post-punk e Matt Rock il gruppo ha tenuto a Taranto la prima data italiana della tour live in Europe 2024 presentando dal vivo il disco Wall of Eyes uscito a gennaio 2024 per XL Recordings registrato tra Oxford e gli Eby Road Studios e il seguito del debutto del 2022 Alight for Attracting Attention che ha ricevuto l'applauso delle principali riviste musicali del mondo 22 i brani eseguiti partendo da Wall of Eyes di Opposite Speech Bubbles punteggiati da brevi e veloci saluti e commenti in lingua italiana e poi le emozioni di brani come Friend of a Friend fino all'applauditissima chiusura con You Know Me da ricordare anche il mini concerto d'apertura di Melga la talentuosa cantautrice di Massafra Gaia Costantini e l'esibizione di Robert Stillman la serata della domenica chiude la kermesse con The Jesus Mary Chain e Palp Per lo sport il calcio le ultime operazioni per quanto riguarda di mercato ovviamente per quanto riguarda il baricalcio Il portiere e gli attaccanti sono le priorità del direttore sportivo Giuseppe Magalini e del suo vice Valerio Di Cesare per dare a Moreno Longo una rosa che sia almeno al 70% nel ritiro di Roccaraso che partirà il 10 luglio circa per il Bari sarà il terzo anno consecutivo in Abruzzo dopo quello concluso con la finale playoff contro il Cagliari e quello scorso in cui si è sfiorata la retrocessione in porta non ci sarà Brenno che non verrà riscattato dal gremio per sostituirlo si fa il nome di Mirko Pigliacelli estremo difensore classe 1993 che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Palermo dopo un'esperienza di quattro anni in Romania al Craiova per quanto riguarda l'attacco torna di moda Anthony Partipilo punta classe 1994 e prodotto del settore giovanile del Bari che nel gennaio del 2016 forse fu svincolato a cuor troppo leggero sul giocatore al momento sono in corso riflessioni da parte del Parma società proprietaria del suo cartellino e con cui ha un contratto fino al 2027 ma il richiamo di Bari e la voglia della società di riportare un nome forte che faccia infiammare la piazza potrebbero fare la differenza nella trattativa per il reparto avanzato un nome caldo è quello anche di Cerri classe 1996 che Longo ha avuto già le sue dipendenze quando allenava il Como per la punta nella passata stagione 12 presenze e una rete con la maglia dell'Empoli il gioco del padel è protagonista ad Andria di un'iniziativa di solidarietà in occasione della giornata nazionale dell'associazione italiana contro le eucemie linfomi e mielomi torna un appuntamento che vuole coniugare sport, benessere e solidarietà lo Sport Academy Village di Andria ha ospitato la seconda edizione del torneo di padel a favore dei malati ematologici l'evento organizzato dall'AILBAT ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca e diffondere il messaggio della speranza è sempre un piacere organizzare questi eventi dove comunque c'è del divertimento e dello sport in questo caso il padel e fare del bene ad altre persone soprattutto a questa associazione che collaboriamo già da due anni con l'AIL e quindi è una bella cosa è una bella cosa e poi ci divertiamo tra amici che è la cosa più bella passiamo del tempo all'interno di questa bellissima struttura la ricerca ha fatto passi da gigante quindi è importante sostenere chi combatte questa malattia noi siamo a pari passo per il sociale soprattutto sport e sociale è una cosa bellissima quindi sensibilizzare la parola più giusta termina qui il nostro TG vi ringrazio per la cortese attenzione vi auguro buona domenica rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo